questo mese su viva tv due docu serie sul calcio che rivivono due delle più grandi imprese calcistiche italiane sapevamo del insomma che potevamo incontrare delle difficoltà loro hanno pareggiato per un episodio ed è lì la partita poi è diventato molto più difficile abbonati ora e ricevi la tua tv android streaming box gratis grazie